Oggi però è l'esperimento finale E lo usiamo come scusa dato che ho fatto schifo alla quella e ho scapocciato Oro 2 Oggi sono uno di voi ragazzi Uno di voi, fate i risultati meglio dei miei, ma che uno di voi Il giovedì vi vedo, e questo va anche per i video di YouTube Io il giovedì vi vedo Io perma taggato in ogni pic clamoroso fa Sanone guarda, oro 2 Bam, Mbappé Bam, Ben Yedder Bam, Neymar Mo voglio vedere Vediamo un po' come va Faccio uno io e uno Rebecca, devo aprire uno? Ok Me basta Tal o Lala Primo pic Vabbè, Di Maria che comunque Diciamo non lo userò mai, però 96 rated, c'è Stozzi Primo pic di Rebecca, riesci a superarmi? Somma Chiacosilva Di Maria Ne dirò, poteva andare peggio Primo apriamo sti pacchettini Magari lo troviamo nei pacchettini, regà Vabbè che dopo che mi ha dato Neymar non scambiabile Nel garantito, ma che devo trovare? E' contento, sto commento in mezzo Dico, boh Manda andà Non mi importa niente se piangi Vai col mega Walk out Vabbè, Harry Kane Non saranno i tre tozze che sicuramente so più stonks, eh Io Non mi lamento Bandiera, bandiera Ce la dai blu Non è manco walk out Insomma Vabbè, ti posso dire Di Maria 96 Di Agosilva 95 Dentro l'SBC Ci hanno già le ali Ma che me frega a me Una bomba Teo Uè Ciao Non me l'aspettavo No, no Oggi prima te, Teo Ma che Ero tutto strabaccato Ho detto Vabbè, tanto vediamo Scloppa che trova Neymar E invece tocca già a me No, no, no Cioè Mi dispiace Teo Il fatto è questo Oggi vai prima tu Anche oggi mi tocca poi vedere tutti gli altri che trovano qualcosa Perché se Allora, se te faccio troppo tardi Vedi quelli che hanno già sculato Se te faccio prima e non sculamo Vedi quelli che sculano dopo Non so come muove me Ma vediamo un po' Primo pick di Teo Lala Ok Carino Lala, carino Io pure lo volevo Lala Secondo Mamma mia Si stinca Mamma mia Mi viene da vomitare questo, eh Nasino, pensaci te Oppela là Posso dire che è schifo Posso dire che è sbocco Guarda, ma io non ce la posso fare Non so come gestire Non so come trovare qualcosa A tempo sì Beh, ci abbiamo tre Ah, ci abbiamo due pacchi tre tots Oh, no Deo, no Alla fine della settimana scorsa, no Settimana scorsa Ho staccato da te Ho tirato un pugno al muro Che tra poco tra passo e finisco in bagno Ah, quanto ti serve? Un milione Un milione e sette Un milione e tre in teoria totali Penso Un qualcosa del genere Messi tots Messi tots Uh No, neanche un walk out Neanche un walk out tiro dai 100k A giugno I tre tots Come sono andati questi oggi? Che io non ne ho visto uno Non li ho guardati neanch'io perché potevo incazzare probabilmente Ci siamo, Teo Ci siamo Vado col primo Una merda questa Brasilia Una merda No Nooo Dai Cazzo Ci ho sperato Cazzo C'eravamo quasi riusciti Quel mezzo pianto Vabbè, Tiago Silva 95 Che non è male Ci potrebbe stare sotto Bo Adal 100k credit Sto qua almeno 100k credit di lui Vediamo se sotto c'è qualcuno Deumano Madonna Porco Dio che sbocco Che pacco di me Madonna Ma che è? Mamma mia Io esco e rientro da Artim e Team Ma qui non si può fare Te lo apro col febbrato, Teo Che mi hanno levato le motte Mi hanno levato le motte perché non rispetta le polisi Quindi te lo apro col febbrato per rispetto Io lo sto facendo veramente Sì, sì, no Lo faccio davvero La gente non crede Ma io lo faccio davvero Ecco qua Di Maria Vabbè, Di Maria 300.096 Ok 3.25 È qualcosa È qualcosa Ma tal sotto Sono contento Rinatino Sanchez Rinatino Sanchez Madonna Ma dai Che schifo Ma ragazzi Veramente lo sbocco, cazzo Lo sbocco Ma anche sta settimana Ma che cos'è? Elite One Ne ho fatti tre Hashtag Aiutiamo, Teo Mamma Da sceglilo tu il prossimo, Teo Sclop Voglio sclop Lo voglio vedere Oh no Ma sclop Non ha fatto Elite One Stasettimana Peggio ancora Ok, vabbè Facciamo sclop Allora Grazie Teo Sclopone Ciao sclopo C'è una grossa responsabilità addosso Lo sai Tu sclopo questa settimana Non hai fatto Elite One 26 26 Purtroppo 26 Primo pick Vabbè dai Rating Per ora Andiamo di agone Perché per ratti Secondo me rispona Secondo Vabbè vabbè Che sbucco Lo apro io Lo apri Rebecca Oh no Guarda se adesso trovi qualcosa di Rebecca Tanca lei È vero È colpa sua Che ci frega a noi Vai Vabbè dai Ci sta Tutto sommato Vabbè Ma manco male il pesce Dai Qua già prevedo una bandiera algerina Dici Vabbè Se la talle è positivo Ne è la talle No l'altro Mi sa Slimani 90 Però nel 3 No Vado de naso Vado de naso Vediamo un po' Brasil Beh L'avevo detto Ma sclopo Come hai fatto Il problema è che Va così Va così Ci sta Sono alti e bassi Alti No Degli alti e dei bassi Ma sta scloppa Ma Scloppa Scloppa Damus Sì 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 ma scusami Ma c'è impossibile La cosa Che pacco è sta roba Scusa Ti ho 100.000 crediti Eh di meno Ma questo è il piccio Il pacco che te fa usci Scloppo Io ti ringrazio Dixino Aia Ogni volta che ti collo così Ti faccio tipo male Vero Aspetta C'è il garantito C'è il garantito Vediamo un po' Chi non dobbiamo piccare Speriamo uno tipo Mbappé Per ride Insomma Mamma mia Raskovic Pool champions Elite 3 Vediamo se riusciamo a sculare Dai picchetti Piazza Eeeh Eeeh Piglia war Non lo uso comunque Però piglielo Vabbè Vabbè Di Maria Di Maria Ok Pic solidi Il terzo è Renato Guarda Si sfoggia Begim Madonna Piglia Marchignos Perché Renato ce l'ho Non scambiabile Ce l'hai già non scambiabile Ho fatto due pic E nel primo ho beccato lui E tra l'altro non posso neanche usarlo Perché ho fatto gueie Vabbè Si prende Marchignos Beh comunque Beh i pic I pic onestissimi Vediamo un po' Tre tots Vediamo se se può gioia Anche un minimo Arriva Tiagone qua Dici Tiagone Dexì Che è sto pacco Stamattina ho trovato lo stesso Cioè mi stai a dire 89, 88, 88 Oh Stad Reims Bene Interessante Ah o almeno questo 60.000 crediti 100k Quasi 100k De pacco Insomma Dexì Grazie mille Lo sai Grazie a te Buongiorno Ciao bello mio Barbo Ciao barbo Quanto hai fatto sta quelle 23 Andiamo E dai Mamma mia sta manna Tutti una bomba Come vedo eh Vorrei Martinez pure Per ide Upara Piamo Ok Uparone Uparone è riuscito Secondo picchetto Io vedi la buttina Esce qualcosa di buono 96 direi Ultimo pick Ma se sbocco Eh questo è quello Proprio questo è quello Insomma Questo è il teo pick È vero Tre pick Manculligan Walkout Era un allucinazione Francia Ah un golò Un golò È un 3dable Quanto sta un golò Al giorno d'oggi Mamma che schifo Frate Ma hai visto pure Cristiano Ronaldo È stato tipo A 230.000 crediti Anche se sti pacchi da tre Mi stanno a puzzare Proprio in un modo Camoroso oggi Ok Ah eh È quel teo pack Non manco Non manco Marchignos Quanto costa Marchignos Costa più Di diavo silva So quelli sotto Il problema Vediamo un po' Oh 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 5,50 Renatino Grazie Borbo Grazie a te Un bacione Bello Daniel Fone Ciao Ciao bellissimo Quanto hai fatto a sta WL Che è Elite One Proverei a talla Tipo Beh è insponabile Mi sa a quanto pare Eccolo Mamma mia Chiamo Vai vai Per souvenir Secondo Vabbè Mezzo simpatico Guardai Ultimo col nasone No col col pisellone Col pisellone Vai col pisellone Mamma mia Mamma mia Chi vuoi Rating Guarda Tanto No Paglia Marchignos Potevano andare meglio Dai Blu Dacci uno blu Vabbè Sbagliato blu Hai sbagliato Blu Sbagliato Per Stegen Vabbè Dai 90 Dai Buono Vado Tieni Tutte e due Eccoli qua Vai col primo Ma ci spero sempre Renatino Depay Lala Con calma Rebbe Con calma Ma come Ha aperto così E che devo fa Vabbè Faccio 18 Sto settimana Faccio Mamma mia Che sbocco Daniel Grazie Bello mio Come sempre Un baceno Caccio Caccio Quanto hai Tato Mamma mia Che videogiocatore Che videogiocatore Ma questa giupa Ma chi t'ha date Mani caccio Ma chi t'ha date Te l'hanno giucciate Le porno star Le mani Per rendere così dure Scuriamo con pic Ecco qua Beied Oh Carino Vai con l'alone Vabbè Qui immagino Marchiglino Speride Ultimo pic Ah Gullit Guarda Gullit Ti interessa Gullit Guarda che cartina 57 di elevazione Mica male Dai poi Gullit E te pio Gullit E cazzo ce fai Con Tiago Silva Vai col primo pacco Da tre toz Atal Nel chilling Un milione di crediti secco così Sotto vabbè la merda Immagino Vabbè sì Ma che ce frega Secondo pacchetto Vai Francia TT Te prego Voglio godere Ok Ok Caccio tu non C'è io caccio Io non ce posso credere Tu caccio C'hai dei problemi Tu sei scriptato Caccio È il caccione Che c'è Che grillistato Ditegli qualcosa Al caccione Da che pacchettino Ragazzi niente Il caccione E' il top Che dire Hai fatto 4 milioni e mezzo Con Dupac J-Ron Bestegno Seven Ben Se lo merita Fateli il tuo anno Scriveteo Abbiamo Tini Vai col top 100 Vai col top 100 49esimo al mondo Quindi abbiamo sbaggato Mamma mia Orendo Secondo picchetto Ozzyman Figo Terzo pic Immagino Marchignos Marchignos Uno buono Ammazza che sbocco Però Ottimo è tuo Ebbè perché faccio schifo Lala non male Ozzyman L'unico diverso Però Poteva andare molto meglio Decisamente I pacchi te li tieni per domani Giusto Fammi sinistra Destra Se è giusto Cazzo Linguaggio alieno Boys Quindi andiamo diretto Sull'undici tots Che schifo Tiago sirva nell'undici Se non c'è stata Al deplorevole Zì Non c'è stata Al neanche Non c'è Sta manco Al Zì C'è l'unico che c'è Sta è Renato Sanchez Che è mezzo milione Dei pai che è 400 Ozzyman 190 Marchignos 200 C'è milione 4 Tipo Che sbocco My man Grazie bello mio Per il paghetini Mamma mia Che sbocco Vediamo da mattia Anche lui un altro top 100 Settantesimo Mi piace Primo pick Penso che tu voglia Verratti Secondo picchetto Ozzyman Chi vuoi Ozzyman Ok vai Terzo picchetto Renatino Ultimo pick Lala Ok Ok Poteva andare molto peggio Vabbè Ah un doppio blu poi Ochoa E Raskovic Vai con st'undici dots La bandiera brasiliana Abbiamo capito Che non è di buon auspicio Volendo Preghiamo per quella Bandiera francese Un altro dia Cosirva nell'undici dots Dacci almeno Renato come prima Depai Adal Adal Per forza Non c'è ancora Adal Mamma mia Non ce ne sta manco Depai Questo è peggio Deprima E' un altro milione Tre milione Quattro Depacco Cioè sta a capire Caccione Quanta ha sculato Oggi Matti io te ringrazio Vai monta Quindicesimo al mondo Urlo del Sium Nei rossi Se può trovare Un giocatore Tipo un Neymar E' possibile Ok Renatino Sanchez Secondo pick Qua assolutamente salvio Per me Tre pick a Rebecca Vediamo un po' Ok Ok Osiman Ma che picchetti so Ultimo E da Ciembape Peride Ah merda Vabbè Vamo Prego Piano eh Sono undici tozze Io ho trovato Dudyaki Silva Dudyaki Silvi Non lo guardo io Guardo solo a te Tanto quattro giocatori Possono essere Te prego Fammi vedere Quell'occhietto matto Che droppa Roba buona Ma è l'atterpad Che vuol dire Un altro Diego Silva Vabbè Macciarotti Coglioni Almeno Dacci a Tal Al terzo Non c'è sta Tal Non c'è sta manco Né Aguar Né Depai Né Lala Cioè lo sbocco Questo è il milione De pacco Mamma mia Montò Te posso dire I pick Stonks Mamma mia L'undici Che merda Quindicesimo Al mondo Allo Ciao ragazzi Mi sentite Bello fra Ciao Zano Ciao bello Mamma mia Guarda Te lo giuro Già mi stavano a spam Mamma 7 a 1 a me Perché sono romanista Guarda Posso dire una cosa È quel party stasera È quel party Ma guarda Sei il numero uno Cazzo Non pensavo che seguissi Le live insieme a Andre Anche No io ti sei Io ho visto qualche live Quando tilti E vendi tutti Ma tu giochi anche quindi Ho iniziato a giocare Ciamo bene bene Qualche mesetto fa Te l'hanno data la carta 99 Sì Sì me l'hanno data Peccato che fa a cagare Come fa a cagare Ti giuro mi sposta Non mi soffra Non mi sposta Non è 99 È fake Sì ragazzi È Federico Chiesa Non so se stanno a chiedere Oh Andre Littuan Quanto fai tu invece Fede A UL De solito A giochi Record Record in assoluto 26 Io però ho visto che Tu sei più forte Zano Tu sei Fatto 19 Stasettimana Fede Vediamo poi i picchetti Se si può scurare Renato al primo Verratti Capiamo Verrattino Io nei Marlott Ho nel tozzo Garantito Fede Oh Ma ne Quanto costa Il giorno d'oggi Mamma mia 35.000 crediti Frate No dice Il giocatore più forte Con cui hai giocato contro Proprio di persona Ce ne sono tanti Quando me incontrerai A me importa Diciamo Dai È quel portiere È quel portiere Me fai mangiare la minestra Altro che Primo tre tozzo Dai Andre Andre Non direi dopo che Ti ho portato Spiega io Perché veramente Guarda È Renato Mezzo milione Si porta bene Si porta bene Regà Te Me so trovato Ti sei trovato da solo Ti sei trovato Chi troviamo Secondo voi Regà No Aspetta Io Marchignos Vediamo Vediamo Marchignos Vabbè Marchignos Sono 200.000 però Guarda Fede Guarda Fede Vediamo Preciso Fede Preciso Marchignos Preciso ragazzi Vabbè però 200.000 credit Dai ce stavo Ce stavo Mamma mia sotto Che schifo Eccolo Eccolo C'è 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 L'ho preso L'ho preso L'ho preso Vabbè faccio Vabbè faccio la telecronaca in live Di quello che troviamo Mamma mia che squadra di merda Oh però Gioca con te Fede Gioca con la versione che è Winter Refresh Bella merda C'è da dire che ce l'ho coraggio Considerando che mi hai detto Che la 99.2 è una merda Mi hai detto No ma lo sai cosa Più i valori sono bassi Magari sono più paccato Elite One Niente ragazzi Tutti dei mostri Primo picchetto E' proprio il magico Diago Silva ragazzi Qua c'è una scelta strana Perché c'è Aguar Vela E Upara Di Maria Ah bello Dai vabbè dai Simpatici sti pic Poteva andare peggio Secondo me Io voglio Io voglio Francia Voglio Francia ATT Cioè lo desidero Prima mi sono eccitato Con Francia ATT Francia è Francia CC CC Aguar 300k di Aguar Marchignos E Osiman Guarda che pacchetto Ultimo pacchettino Vediamo Là c'è un'altra Francia Brasile DC Uuh E' sempre lui ragazzi Tiago Silva No Marchignos Mamma mia Marchignos Slimani e Andre Questo Mamma mia ragazzi Vabbè ha dato tutto quello che poteva L'ha dato prima Ha fatto penso più o meno i soldi tu Andre in realtà Lo sai Io vi ringrazio per la compagnia Un giorno ci sentiamo magari Anche off Quando siete liberi E se facciamo una chiacchierata un po' più tranquilli Se ci siete Noi siamo La sera siamo in party Quasi tutte le sere Quindi Un abbraccio Ciao un bacione raga Ciao 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 Che grande Fede Che grande cazzo E ce ne stanno di surprises Era quel Federico chiesa ragazzi Era quel Federico Posso fare l'ultimo account per il video Lion 10 10 Lion Uuh Lala C'è pure il garantito Porca troia Lion Che trollata che ho fatto Allora Non posso più sciaprire il garantito Lion Secondo pick Aguar Terzo pick Eh Io fossi in te qua Prenderei Robinson Il garantito lo apro subito eh Peride Un po' bestemmiamo Vai Primo da 3 Oh E' il pesce Nice Zanopesce 400.000 Zanopesce 94 sotto a tal Ammazza che pacchettino Limortacci che pacchettino frate Un milioncino e 6 Puro Secco Vabbè qua Qua trova la merda Questo lo apro così Che cazzo devi fare Piate zanda andava Piate sto pacco va Fatta andare bene quello di prima Fatta andare bene Vabbè insomma Il video è finito Andate in pace Dio budello Vabbè insomma